Musica Associati olivicoltori ben ritrovati alla 27esima edizione del periodico 8 luglio 2022. Nei nostri olivetti oramai avanza la maturazione delle olive. Il primo accrescimento del mesocarpo. Nelle varietà invece che sono più precoci come nelle olive da tavola siamo già all'indurimento del nocciolo. Quello che invece preoccupa è la continua cascola delle olive. Pensavamo che ci fosse ridotta e invece prosegue. È una cascola anomala con molta probabilità. È dovuta alle alte temperature. Perché abbiamo visto che negli olivetti in cui con costanza si sono attuati interventi con corroboranti, alghe o distillato di legno, il fenomeno è molto ridotto. E questo vale, questo fenomeno di cascola, sia negli olivetti in asciutta che negli olivetti irrigati. Perciò si può considerare che questo qui sia un affaticamento proprio da calore. Non bisogna però prendere paura di questo perché con molta probabilità la pianta andrà ad accressere maggiormente le olive che sono rimaste. La mosca delle olive e qui entriamo nell'argomento importante di quest'annata perché le nostre olive, ma lo vedete dalle dimensioni che sono visibili nelle foto sempre gentilmente concesse dalla nostra associata Monica Vaccarella, hanno oramai delle dimensioni tali da essere appetibili dalla mosca. A limitare le ovodeposizioni sono le alte temperature. In effetti in questa settimana abbiamo riscontrato catture nelle trappole da monitoraggio di 11 individui. Abbiamo riscontrato qualche puntura di assaggio e non abbiamo rilevato alcuna ovodeposizione. Le alte temperature mantengono il dittero ancora fermo, ancora bloccato all'interno degli olivetti in anfratti ombrosi. Il caldo gli dà effettivamente fastidio anche alle mosche. Le cuciniglie dove si sono effettuati i trattamenti abbiamo visto che la presenza dei cucini sono molto limitate. Dove invece c'è ancora presenza, e qui sta alla bontà dell'olivicultore che vada ad effettuare un proprio controllo nell'oliveto, si è ancora in tempo per andare ad effettuare un intervento fitosanitario usando a contrasto di questa cuciniglia l'olio minerale adatto anche per agricoltura biologica. Cimece asiatica. Negli oliveti mediamente non c'è presenza di questo parassita in maniera tale da creare dei danni, però abbiamo riscontrato che in alcuni areali la presenza, la pressione di questo parassita comincia a diventare importante. Al momento però non c'è la necessità di eseguire alcun intervento fitosanitario. Parassiti fungini, occhio di pavone, piombatura, lebra, le condizioni atmosferiche attuali limitano notevolmente le nuove infezioni, anche se negli giorni scorsi sono avvenute delle precipitazioni ed è aumentata la temperatura. Quello che invece segnaliamo quest'anno sono la presenza di cancri rameali da biotrosferie, soprattutto in rametti da due anni. Per questi tipi di parassiti fungini non esistono delle sostanze attive registrate per l'olivo, però con interventi a contrasto dell'occhio di pavone, magari utilizzando lo score dei triazoli, è possibile contenerne gli sviluppi. Dal nostro associato, il dottor Leonardo Granata, ci sono arrivate delle segnalazioni su danni agli olivi provocati da cinghiali, con sbucciature e scorteciamenti. Le abbiamo riportate nel nostro periodico, andando ad arricchirlo anche con foto sempre concesse dal dottor Leonardo Granata, riportando tutte le azioni fitosanitarie che si devono eseguire dopo che questi animali hanno effettuato questi danni, proprio per andare a limitare ulteriori aggressioni da parte di parassiti animali e vegetali sulle nostre piante, già particolarmente offese e che troveranno difficoltà ad andare a ripristinare le cortecce e che comunque sappiamo che nel lungo periodo questi alberi vivono meno di quelli in cui non sono stati effettuate queste attività di abrasione dell'epidermide. Alcuni nostri associati hanno chiesto un approfondimento sulla mosca olearia, sulla biologia di questo ditero, perché la settimana scorsa nel periodico avevamo riportato le sostanze attive a contrasto. Con l'aiuto della lavaia andremo ora a riportare tutte queste informazioni. La mosca dell'oliva è il principale parassita dell'olivo, non come pianta ma come frutto, perché una volta che infesta l'oliva la degrada e la rende poco adatta ad essere trasformata in olio e se è trasformata in olio il prodotto che se ne ricava diventa scadente. Andiamo a valutare la mosca dell'oliva come si caratterizza nel periodo estivo e naturalmente troviamo che ha un'elevata longevità. Pensate che questo ditero riesce a vivere anche nove mesi sebbene alimentato. Dopo ha un'elevata fecondità, riesce la femmina a deporre dalle 500 alle 1000 uova con una media fra le 200 e le 300. Ha un'elevata mobilità, riesce a muoversi all'interno dei nostri olivetti anche per 500 metri oppure li supera anche, arrivando anche a 800 o 1000 metri, se si trova delle correnti d'aria favorevoli. Di che cosa si nutre? Si nutre di sostanze zuccherine, di batteri e di succhi vegetali. Le sostanze zuccherine le trova principalmente sulle melate delle varie cuciniglie o di afidi presenti all'interno degli olivetti oppure nelle immediate vicinanze. I batteri invece sono quelli che trovano all'esterno delle foglie e delle olive, nel cosiddetto filoplano dell'olivo. Invece i succhi vegetali li trova o se li crea quando va a effettuare delle punture di assaggio nelle nostre olive. La mosca delle olive attua un'attività di riproduzione immettendo l'uovo all'interno delle olive. Fa una ovide posizione. La femmina è guidata nell'andare a ricercare l'oliva e da degli stimoli che sono visivi. Il verde dell'oliva è uno stimolo per la mosca. Ecco che l'utilizzo di eventuali imbrattanti, caolini, bentoniti, zeoliti, limitano la visualità, l'individuazione del verde da parte della femmina. E dopo abbiamo degli stimoli chimici che sono importantissimi. Stimoli chimici che sono dati dai batteri epifiti che ci sono sopra le olive, che servono alla mosca delle olive proprio per effettuare un'attività di nutrizione. E poi abbiamo anche degli stimoli chimici dati dalle sostanze che sono all'interno degli olivi, dei fenoli che riescono ad attirarlo e a dargli quasi come un radar l'indicazione per giungere sull'oliva e attuarne la deposizione dell'uovo. Prima di effettuare la deposizione dell'uovo nell'oliva, la mosca fa delle punture di assaggio, punture di assaggio che forano l'oliva, assorbe delle sostanze, dei liquidi, le serve anche per nutrirsi o per disettarsi e dopo va a ovide porre. Questa prima suzione viene chiamata bacio dell'oliva e dopo abbiamo l'introduzione dell'uovo. Una particolarità che ha la mosca dell'oliva, nel momento in cui immette l'uovo all'interno della mia oliva, ne introduce anche un batterio particolare, l'ervinia d'acicola, che serve alla larva quando esse perché questo batterio dà la possibilità, anche una volta che è ingerito, di assimilare la polpa dell'oliva e di trarne le proteine, ossia di riesce a digerire grazie a questo batterio. Ecco che allora noi capiamo perché è importante alle volte andare ad effettuare un trattamento con dei battericidi alle nostre piante di olivo, il rame ad esempio, che non ha funzione nei confronti dell'oliva ma ha confronti dei batteri che si trovano all'esterno della pianta dell'olivo proprio perché vanno a costituire quei batteri epifiti per l'alimentazione, quei batteri che si trovano nel filoplano, nel termine tecnico corretto, ne diminuisce la popolazione e crea difficoltà alla mosca, sia nell'alimentazione ma sia anche nella trasmissione di questo batterio. Limitandone la carica si dà una minore possibilità di vita alla larva che ne esce. Lo sviluppo larvale ha tre stadi. Primo stadio, quando la larvetta è molto piccola, secondo stadio, quando la larva inizia a ingrossarsi sempre più e scava una galleria, arriva allo terzo stadio dove prosegue nella galleria fino a emettere un foro di uscita per lo sfarfallamento. L'effetto di contenimento di queste larve, quale può essere? Un effetto del calore, perché possiamo avere delle mortalità da caldo quando le temperature salgono oltre i 31, 32, 33 gradi centigradi oppure possiamo raggiungerle con dei prodotti fitosanitari ovicidi o larvicidi che abbiamo visto la settimana scorsa. Facciamo una ipotesi sulle generazioni di mosca di questo 2022. Con le temperature attuali, l'umidità, la luminosità, potremmo avere una prima generazione di mosca tra la fine della seconda decade del mese di luglio e la terza decade sempre del mese di luglio. Perciò in questo periodo, fra il 10 e il 20, o il 25 di luglio, teniamoci pronti per un intervento fitosanitario a contrasto. Dopo una seconda generazione potremmo averla fra la prima e la seconda decade di agosto, ricordandoci che fra una generazione e l'altra passano mediamente dai 12 ai 15 giorni. Naturalmente in questo lasso di tempo ci si accavallano anche delle generazioni. Una terza generazione potremmo averla nella prima decade di settembre e diventa ancora più pericolosa perché siamo nella fase di invaiatura delle olive. In settembre diminuiscono le temperature, aumenta però l'umidità, aumenta la recettività delle olive stesse. Una quarta generazione potremmo averla tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre. Dopo andremo a raccogliere le olive, ma non è escluso che tra il 20 di ottobre e le prime a decade di novembre, se le temperature rimangono ancora elevate e c'è presenza sicuramente di olive negli olivetti, potremmo avere anche una quinta generazione di mosca delle olive. E adesso nel ringraziarvi per l'ascolto un risentirci alla settimana prossima.